Ad Arcore siamo a 55 e basta per 100! E siamo felicissimi! Non è meglio dire noi c'è il mini che non sarei credibili! C'ho un'idea, c'ho un'idea, disse Nea, c'ho un'idea! E prese la parola in assia fea, c'ho un'idea! Noi diciamo noi c'è il mini, day and night! Ma mai pensato di fare la modella? Nonostante questo risultato non chiedetemi l'impossibile! Se vuole sei fortunato! Ci rimasto solo l'embre! A Bolo Dio del Gallo A Bolo Dio del Gallo Grazie per la visione 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 Grazie per la visione